Cioè nel romanzo noi diamo tutte le piccole spiegazioni, le sfaccettature, allora il lettore è lì seduto quasi come senza far fatica, il racconto no perché il racconto ti costringe ad un lavoro, quindi tu devi impegnarti, devi immedesimarti, può darsi che una frase la dovrai leggerla una volta, due volte, tre volte, cercare di capire perché è un guizzo, è un fulmine, lo devi prendere per cercare di vedere cosa illumina in quel momento mentre passa. Questo viene pure dall'amore che ho per la psiche, per tutto ciò che è interiorità, è introspezione. Quindi siccome non mi basta mai, cercare di capire gli altri, lo sguardo degli altri, le mani degli altri, i capelli degli altri, tutto ciò che è un altro, che sta davanti a me, mi piacerebbe entrare dentro gli altri come se non mi bastasse un corpo ma io volessi attraversarli, ecco, per averli proprio miei. Ecco, ecco perché dai miei personaggi cerco questo, pretendo questo, loro lo sanno e quindi mi aspettano ogni mattina e quando li ignoro pretendono l'ascolto. Questo è... Scusatemi se mi intrometto, questo dei personaggi è un aspetto che mi ha colpito perché tempo fa dicesti che comunque continuano poi, no? A bussare alla porta, a volere essere fatti in un certo modo, cioè sono loro che si dettano da soli in un certo senso. Sì, questo sì, pretendono l'ascolto. Adesso per esempio c'è un personaggio che, come ho avuto modo di dire, si è seduto a casa mia e non c'è verso di mandarlo via e quindi devo necessariamente ascoltarlo perché alle volte ho cercato anche di ignorarlo veramente, sinceramente. Vuol dire anche stamattina stai qui e invece stai lì e quindi ogni mattina cerco di dire cosa hai da dirmi oggi, cosa vuoi dirmi. Allora ogni giorno aggiunge dei particolari. Voglio svelare che questo tizio l'ho davvero incontrato, portando mia madre ad un controllo, al ginocchio, ho incontrato questo uomo e questo mio maledetto vizio di guardare, di osservare, così l'ho preso e gli ho detto, ho pensato dentro di me, penso che ti porterò a casa. E' stato così perché tuttora sta a casa, finché non scriverò anche questo racconto, spero perlomeno. Un atto di schizofrenia creativa, la tua scrittura. Un atto anche di estroversione, come dire, un atto di scissione tra i vari personaggi. Dove trovi la tua linfa vitale per scrivere? E' un'esigenza interiore? Sicuramente. Sì, senz'altro. La scrittura per me, come dicevo, ho avuto modo di dire più volte, per me è la vita. Ma forse perché penso che, come nel teatro greco c'era questa ipocrites che poi era la maschera, no? C'era questa cosa che tu puoi indossare, puoi fargli dire ciò che vuoi, puoi permetterti dei lussi che anche nella vita non ti puoi permettere. Per esempio il bastardo, tra virgolette, che nel tempo dell'aperitivo ha questo comportamento così disamorato, così immorale, diciamo, tra virgolette, verso questa ragazza, forse è una cosa che io mi permetto il lusso di dire se è un bastardo, no? Oppure, avevo un concetto, perché siccome io amo molto le donne, nel senso, stimo le donne. Perché per me la donna ha un certo coraggio, la guardo come se fosse il faro della vita. Perché la donna è il motore del mondo, ecco. E allora in quel modo lì, con questo racconto, ho avuto modo di dire, può darsi qualcosa che vorrei dire, può darsi al tipico maschio, senza nulla discriminare agli uomini presenti, che alle volte hanno atteggiamenti non proprio simpatici verso la donna. Quindi la scrittura ti permette di dire, per esempio, c'è un racconto che si chiama Lettera Celeste, in cui io immagino che mio nonno scriva una lettera a sua nonna. Mio nonno non ha mai scritto una lettera a sua moglie. Una donna meravigliosa, morta in una situazione molto particolare. Il racconto è piccolo, poi è stato anche pubblicato dalla rivista online Progetto Babele. E quella è una vendetta, perché ho preteso che lui esternasse il suo amore, ammettesse le sue colpe, cioè cose che non ha fatto nella sua vita, nei confronti di questa donna che è stata una donna veramente in gamba. Quindi ecco, la scrittura ha questo... questa è la bellezza della scrittura, che tu possiedi quest'arma dentro di te, con cui far dire o muovere, come per esempio anche la scuola di drammaturgia di Dacia Maraini, mi ha permesso di vedere carne e sangue dei miei personaggi, cioè vederle vive, quasi toccarle, sfiorarle, vedere come è veramente bello quando un testo diventa testo teatrale, è qualcosa di stupendo. Perché un personaggio che è lì non riesci neanche a toccarlo, quindi lo puoi anche attraversare, perché come fumo, poi tu lo vedi fisicamente, che parla, che spiega, che piange, che si dispera o che ride. Quindi anche questo è una cosa bella della scrittura, questo per quanto riguarda la scrittura teatrale, ma per qualsiasi genere letterario sicuramente questo è veramente un dono, la scrittura. C'è qualcuno che vuole fare qualche intervento, ha qualche curiosità, qualche domanda all'autrice? Allora io ringrazio di cuore Patrizia Di Donato. Ah, un'altra lettura? Perfetto, allora passo la parola ad Antonella, che dà voce alle parole. Visto che vi ha parlato di lettere a celeste, ne leggiamo un brano. Avezzano, 13 gennaio 1915, ore 7.45, cade la neve. Sopravvivesti e giungesti in paese, il mio. Devo spiegarti, sai, come fu che non ebbi il tempo di dirti grazie, amore mio. Guardavo il grano quel giorno, preparavo la pipa e pensavo che il mastico era terminato, l'acqua bolliva sulla carbonella e le donne sciamavano dentro la camera in attesa che la vostra estate si compisse. Con quattro pedalate arrivai da Gino, presi il mastice, ma lui era un bastardo, perciò restai. Dimenticai il peso del tempo, le biciclette da riconsegnare, dimenticai te e il figlio che stavi per darmi. rincasai tardi. Vidi i vicini assiepati intorno alla nostra casa. Il cuore batteva come un prigioniero. Che sta accadendo? Andate via, o afferro il fucile e finisco qui la mia guerra. Corsi in camera e mi accolsero i tuoi occhi serrati, il viso esangue, candido, come se vi fosse caduta sopra una neve leggera. Sarebbe stato un figlio a cui avresti dato i denti, afferrando i tuoi forti triti. La tua foto dondola sul mio petto. Anche quest'anno lavanda in ebria il tuo armadio. Rincasa, amore mio. Un dolore penetra il mio cuore. Fisso l'orizzonte. Vedo una polvere lontana che avanza. La pipa rotola sul pavimento. Spalanco la bocca. Voglio gustare il sapore del tuo ritorno. Tendo le braccia e ti afferro, dolce mia. Rido e lascio che il calore di questa neve plani sul mio corpo di gelo. Cado sul tuo corpo bello e là resto per sempre.